Rossini TV risponde alle segnalazioni dei suoi telespettatori. Segnalazione che oggi si concentra sul noto moletto di Pesaro che divide il lungomare fra la palla di pomodoro e l'inizio del litorale di Ponente. Moletto che da qualche mese ha l'accesso interdetto in quanto sprovvisto della ringhiera di delimitazione che, come è stato per le altre balauste della palla di pomodoro, è attualmente in fase di restyling per un trattamento in polimeri che ne dia nuovo lustro e integrità. C'è però chi si chiede se la prolungata assenza della ringhiera stia minando l'integrità delle assi di legno del camminamento che appaiono sconnesse e destabilizzate dalla mancanza di avvitamento con le ringhiere. L'amministrazione comunale, sollecitata sull'argomento, ha fatto sapere che si tratta di una situazione calcolata che si è scelto di effettuare il trattamento in periodo autunnale per non togliere la passeggiata sul moletto nel periodo estivo e che nelle prossime settimane si ristabilirà la recinzione con conseguente fissaggio e sistemazione della pavimentazione a regola d'arte.